Buonasera amici di Turi, benvenuti al ristorante Al Boccone, io sono Sebastiano Lochef, non neanche il proprietario. Oggi insieme alla mia assistente matica vi proponiamo un magnifico piatto, il pistacchio e bottarga, detto gattopatto. Sono delle linguine che noi prepareremo con pistacchio di bronte e con bottarga di tonno di marzanelli. Abbiamo già preparato la bottarga di tonno, il pistacchio tostato e grattugiato, il pesto di pistacchio precedentemente e accuratamente preparato, delle arance, delle pavette e infine useremo per guardire il nostro piatto un delicatissimo olio d'oliva. Iniziamo subito per mettere nella padella il nostro pesto di pistacchio precedentemente preparato. Abbiamo tostato il pistacchio di bronte, lo abbiamo inumidito con l'olio d'oliva e abbiamo aggiunto un po' di sale e un po' di pepe nero. Dopo aver aggiunto una crema più o meno omogenea procederemo a gattugiare un po' di bottarga sul nostro preparato. conulda il nostro pesto di pistacchio e il nostro piocio ogni più 50 1 3 3 4 4 e subito dopo si procede nella caratteristica di questo piatto e cioè il piaccaggio a forma di monte cioè l'etena di quanto il pistacchio prevalentemente della zona dell'ecina rappresenta una delle nostre più belle opere della natura perfetto andiamo con una scuzzatina di bottarga ed il piatto è servito ciao tore e amici di tore e e e e e e e e e Grazie a tutti.